E oggi facciamo la prova di non ridere con l'acqua in bocca Mi hai costretto Stai in titta, basta Eeeh Eeeh Mmm 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 Che C'è un audio su TikTok che mi fa spaccare delle risate Lei non l'ha ancora mai sentito e ora lo sentiremo Ok, ci sei? Ci sei, guarda 3, 2, 1 Ok, raga, adesso dovete decretare chi è il vincitore In questo momento perché saremo Se io o mi ha sto Basco, non può Basco Basta, non stai, mi ha già un problema Basta, non stai Basta, non stai Basta, non stai Basta, non stai Basta, non stai